La seguente testimonianza è tratta dal libro di padre Guglielmo Alimonti intitolato I miei giorni con padre Pio da pagina 123 a pagina 125. L'autore del libro parla delle numerosissime conversioni compiute da padre Pio. Uomini di teatro, dell'arte, della scienza e perfino uomini della politica a contatto con padre Pio sono diventati splendidi figli della chiesa. E sempre l'autore del libro dice che se da una parte tutto ciò mi faceva gioire immensamente, dall'altra mi faceva vedere sempre meglio le lacune del mio ministero sacerdotale. Tutto ciò mi ricordava il periodo dello studio quando avevo maturato a causa di questi timori, dice sempre l'autore del libro, la decisione di essere cappuccino ma di rinunciare assolutamente all'ordinazione sacerdotale. Alla fine però dovetti cedere alle insistenze dei miei direttori spirituali e dei superiori. Diventavano più ricorrenti i giorni di timore. Decisi quindi di parlarne a padre Pio ora che le avevo affidato la mia anima, il mio sacerdozio e tutto me stesso. Al termine della confessione gli aprì il mio cuore dicendogli padre affido a lei tutte le anime che il signore affida a me. E padre Pio sollevando le braccia esclamò e a quante mani le affidiamo? E io insistetti dicendo padre delle mie so di non potermi fidare. Padre Pio dopo un attimo di silenzio disse e va bene però fa la parte tua. Padre Pio non poteva abbandonarmi a me stesso e neppure poteva prendere tutto il mio peso su di sé. Così mi ha rimandato alla preghiera di San Francesco ai suoi frati prima di morire. Fratelli io ho fatto la parte mia, Dio vi aiuti a fare la vostra. Così conclude l'autore del libro. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!